Combattere gli scafisti, scoraggiare partenze disperate e allargamento dei flussi, risponde con i fatti il ministro Matteo Piantedosi dopo la tragedia di Cutro a chi ha definito le sue parole disumane. Comunque la disperazione credo non può mai giustificare le condizioni di viaggio che mettono in pericolo la vita dei propri figli. Le opposizioni le definiscono indegne, uno schiaffo alle vittime, il duro commento di medici senza frontiere. Ma le cose non stanno così, spiega oggi il ministro in una intervista al Corriere della Sera, nella quale punta il dito contro i trafficanti. Chi scappa da una guerra non deve affidarsi a scafisti senza scrupoli, devono essere le politiche responsabili e solidali degli stati ad offrire la via di uscita al loro dramma precisa. Ed è quello che l'Italia sta facendo con il potenziamento dei corridoi umanitari e dei flussi che quest'anno, ricorda il ministro, garantiranno l'arrivo a 83.000 extracomunitari. Una linea ribadita dalla premier Giorgia Meloni che sottolinea la necessità di fermare le partenze. Per farlo, dice, è necessario coinvolgere le istituzioni europee, alle quali si è rivolta con una lettera in cui chiede che venga rispettato quanto deciso nell'ultimo Consiglio europeo. Piantedosi risponde anche a chi ha messo in relazione la tragedia con l'assenza di navi umanitarie. In questo tratto di mare non operano le ONG, ripete, e anche fosse, nessuno lo impedisce, salvo il rispetto del regolamento. Quanto alle polemiche sui soccorsi, il ministro ribadisce che non c'è stato alcun ritardo. Le condizioni proibitive del mare hanno reso impossibili le operazioni. Bisogna piuttosto ringraziare i soccorritori per tutti gli sforzi compiuti, non solo la notte del naufragio.